Ma è riuscita a trovare del bilanciamento per riuscire ad allenarsi in maniera buona. Molto bene, vediamo il corpo libero di Rebecca Aiello della ginnastica Riccione, allenata da Anton Stoyler. Sì, ginnasta che si sta facendo veramente notare, molto giovane. Molto bene questa prima parte coreografica e molto in linea con la musica, brava. Prima diagonale. Doppio carpio. Con un piccolo saltello all'arrivo ma nell'insieme eseguito bene. Due e mezzo dietro più salto avanti raccolto, in questo caso lei ha anche l'esigenza del lavoro avanti, oltre che quella degli abitamenti. Anjambe cambio con mezzo giro collegato all'anjambe cambio prima, così. Serie artistica e doppio giro in Wolf, terza diagonale adesso per lei. Doppio raccolto, due elementi sia doppio carpio che doppio raccolto di valore di, ma con valore, possono essere ripetuti in quanto sono due elementi differenti. E termina così il suo esercizio.